Pescara livido di rabbia, ne abbendonde una sconfitta difficile da metabolizzare, cagionata da una direzione quella di Fabri di Ravenna assolutamente inadeguata. Fiscale con Rizzo, secondo giallo ed espulsione, 38esimo del primo tempo, permissivo con Pirrone che 6 minuti prima andava senza indugio cacciato per questa entrata killer su Brugman. E' sempre prima dell'espulsione, assai discutibile di Rizzo, il duplice fallo di mano in area di rigore siciliana di Rizzato Junco, doppia infrazione immortalata dall'obiettivo dell'ottimo Max Mucciante. Sul piano del gioco è vero, assai meglio in 10, ma alla fine la superiorità numerica avrà il suo peso. Il Trapani tira due volte in porta, sfrutta con cinismo un contropiede finalizzato in avvio di ripresa da Gambino, ma poi è solo fortunato e soprattutto salvato dal suo portiere Emanuele Nordi. Ex Teramo e dai legni della sua porta. I due tecnici Pasquale Marino e Roberto Boscaglia. Paradossalmente Marino esce fuori da questa sconfitta un Pescara rafforzato, si può dire questo? Ma certamente se vincevi a Castellammare con quella prestazione i dubbi ti vengono, però quando esci con una prestazione del genere, quando metti sotto una squadra fortissima nelle ripartenze, non rafforzato come ha detto lei, perché su questo dobbiamo puntare, non guardiamo se abbiamo perso alcune partite di fila, perché ognuno in partita di questa ha una storia diversa. Oggi la storia dice che il Pescara ha giocato bene. Obiettivamente, vittoria meritata sì o no? Ma io credo che ognuno alla fine abbia quello che si meriti, nel senso che con la qualità che è il Pescara può succedere di tutto, e se loro non hanno fatto gol e se il nostro portiere è stato bravo, i meriti sono anche nostri, qualche demerito loro. Di queste partite ne ho anche perse tante, sa come. Una fastidiosa fascite plantare mette K.O. Capuano. Al suo posto, assente Zuparic per la squalifica, gioca Ciasic nella difesa 3 completata da Schiavi e Zauri. In mediana torna Capitane Balzano davanti il tridente politano Maniero Ragusa. In panchina e in forze di gennaio Salviato e Bovo. Per contro comincia dalla panchina perché debilitato dall'influenza il re dei bomber con 15 gol Matteo Mancosu. E così in attacco Iunco affianca Gambino. In casa Pescara, dopo l'inopinato K.O. di Castellammare, la parola d'ordine è ripartire, ma l'avvio è tutt'altro che incoraggiante. Biancazzurri remissivi, siciliani spigliati, subito provvidenziale Balzano che precede Nizzetto. L'apatia biancazzurra dura una quindicina di minuti. Su calcio franco, ricamo di Brugman e tentativo è spaccata di Ciasic. L'ex Terlizzi rispinge, forse anche col braccio. Il replay non chiarisce del tutto. Politano dalla bandierina, prime sollecitazioni per Nordi. Quindi Trapani sbilanciato e controfuga di Rossi. Ragusa accompagna, vince un rimpallo, alza la testa e mette in mezzo a colpo sicuro Politano fuori. Al trentesimo la prima munizione giusta per Rizzo che trattiene Gambino. Sarebbe invece da Rosso l'entrata fuori tempo soprattutto pericolosa di Pirrone da Tergo su Brugman. Minuto 32, il disastroso Fabri di Ravenna estrae solo il giallo tra le motivate rimostranze della squadra di Marino. Che però continua a crescere assumendo il comando delle operazioni. Ragusa liberato da Brugman impegna Nordi. Calcio d'angolo, batte il regista Uruguaggio. Spalle alla porta, Ragusa devia di testa. In sequenza Rizzato e Junco si oppongono così. A pochi metri dunque perfettamente posizionato. L'arbitro sorvola tra l'incredulità generale. Duplice infrazione da rigore ancora più evidente grazie agli scatti illuminanti di Max Muccente. Quasi capovolgimento, gesto estintivo di Rizzo che Fabri punisce col secondo giallo. Minuto 38, Bianchazzurri in 10. Ma sempre attenti, primo cambio obbligato fuori Politano dentro l'ultimo arrivato Andrea Bovo con un uomo in meno il Pescara offre il meglio di sé. L'avvio di ripresa è dirompente. Destro poderoso di Ragusa. Nordi vola a deviare. Subito dopo però eccesso di generosità. Pescara scoperto, il Trapani lo infila in contropiede da Junco a Gambino. Controllo e gran diagonale imprendibile per Emanuele Belardi. Ottavo minuto, ospiti in vantaggio. Nel momento invece più propizio ai padroni di casa che tuttavia non demordono. Giocata sublime di Brugman e missile di Ragusa. La traversa rischia la frattura. Quattordicesimo, solo di Schiavi. Dentro splendidamente per Ragusa che centra il portiere in uscita. Naturalmente Bianchazzurri rischiano qualcosa. Reattivo Belardi sulla conclusione di inizietto servito dal solito Junco. Caprari per Ciasic. Minuto 22, Balzano scivola sulla linea dei difensori un minuto più tardi. Brugman assist. Giottesco per Maniero che di prima al volo tutto solo spedisce fuori. Che occasione. Match tuttavia stregato. La Mara conferma al minuto 39. Quando Caprari prende la mira e timbra con questo meraviglioso fendente. Il palo interno della porta di Emanuele Nordi. Finisce 1-0 per il Trapani. Un solo aggettivo. Pazzesco.